E ciao ragazzi amici sono il vostro caro Dexter ed è vero vi avevo promesso la crossbar challenge insieme a Pjanic Oggi altro che Pjanic vi ho portato un calciatore che è il numero uno dei bomber MOKARDELLI Super Moscardelli Ciao ragazzi E ragazzi un pollicello per un posto almeno 100.000 mi piace per questa sfida E oggi dovremo fare una seguita TOTAL SOCI PRO CONTRO YOUTUBER Professionista contro scarso in poche parole Faremo una crossbar challenge come prima sfida Dove io la farò con il classico pallone della nuova ovviamente della magica E tu la farai sempre con il pallone della magica ma dovrai prendere la traversa con questo Ok 5 diretti posizioni Primo tiro Vieni Questa sfida Vai 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 l'ho vedo Sì E' la difficoltà Secondo tentativo non è figo l'ho fatto eh, che replay eh, replay, instant replay comincio ad avere paura, è il tiro buono, è il tiro buono la sfida è difficile, ma non è possibile ragazzi, ho fatto un gol scarpa è slaccia eccolo, te l'ho detto che era la scarpa youtuber 1, pro 0, ma tocca a lui adesso e può pareggiare allora si slascia pure te ha slasciato gli scarpini anche lui è lo scarpino slacciato, ve l'ho detto si tratta di rivolto ma lui dovrà parare con un costume da sumo fatality o tocca a me imparare tirapian pianissimo tirapian ha paura? goodbye motherfucker è uno mi riflessi del cignomor ragazzi, è pure io che mi vado a mettere la maglietta di Diago Motta però è un tiro fatality che è un bomber che è vero che è vero vai, ultimo tiro oh 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 si si ma fai a lui perché sennò io non lo faravo eh oh dio mi chiede l'evoluto quando chiede a chi il miracolo dovrà fare mio fisioterapista c'è i sassolini qua eh lo so guarda guarda che sassolini ho fatto la barba nuova ah ovviamente mi sto facendo crescere la barba in onore di moscagolle guardate ci vorrà un po' di tempo ma giusto un paio d'anni minimo minimo bene l'idea di che ora sono pronta a tirare i rigori guarda che cazzo mi stai facendo male davanti ai miei figli io sono un padre di partito stai bene stai bene primo rigore fino a lì su attirà secondo rigore non lo stai mai vai solito no 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 se segno pareggio se non segno ha vinto il rischio non posso perdere con uno vestito così no 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 dai ti sei vestito così però hai vinto la sfida ma adesso è l'ultima sfida tirare i calci d'angolo e segnare che ora a disposizione 10 tiri perché sono vinto solo 5 ma non è normale ma non è normale allora ci sto vai sei pronto hai solo 5 tiri chi fa più gol vince e vince tutto mettiamo primo tiro oh 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 e questo era solo il secondo tiro oh 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 un palo 9 no no non ci crede da tronde non ci crede che vuole che sia siamo già due ultimo tiro ultimo tiro ultimo tiro non la posso fare non la devo fare è certo che ce la faccio ho 10 tiri mi vergogno tantissimo in questo momento ma posso vincere che non c***o fuori dai dai però oh 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 a dentro si 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 forse il consiglio era meglio dopo dai si posso vincere nooo oh oh sono rimasto malissimo oh ma che palo però oh ma sono abbonata a quel palo è un 3x2 eccolo come no dai era con i technologi dai strada ero quella prima ma torta dammela buona era gol ha detto mosca gol dai hai visto? se faccio questo vinco tutto ho pareggio la sfida è terminata con un pareggio no in realtà ha vinto lui però in realtà questa l'ho vinta io non barando però come abbiamo detto prima mezzo palo e mezzo palo quindi siamo parti però do la possibilità di vincere tutto ma devi farmi una figata è stato un pareggio quindi la sfida finale un pareggio diciamo non molto veritiero però grazie alla maglietta di Diego Morta è stato Diego Morta crossbar challenge da centrocampo parto? vai run oh eh oh 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 ciao oh 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 raga ha vinto lui basta no no Ragazzi, ha vinto il bomber MoscaGooool! Ragazzi, mi arrendo alla proagine, grazie mille per essere stato qui sul mio canale. Grazie a te. Seguite le imprese di Moscardelli con l'Arezzo, mi raccomando. Ringraziamo Sports City Trigoria, 100.000 mi piace per il bomber Moscardelli. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, Facebook e Instagram, tutto in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video. Un abbracione, un salutone e... E ci vediamo gente! L'applauso e prende le traverse epiche. Chi è più forte, regà? Ma ci abbiamo messo... Oh! 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 Oh!